Sono nuovi. Oggi vi volevo dare gli auguri di Natale, perché penso che non faccio più in questo Natale. Comunque oggi vi faccio vedere i miei animali da cortile, le mie galline, i miei colli, i miei coneji. Ecco qua, questa è una gallina, ho quattro galline, questa è un olivornese, molto piccolino però, guardate quanto è bello. Guardate che becco bello che ha. Eccolo qua. Poi questa è una nuova viola, giovane, anche questa è giovane, queste due qua sono un po' vecchiarelle però fanno bellissime uova anche loro. Poi questa è la struttura dove ce l'ho, tutto il cemento, qua i finestroni, guardate il cemento, qua c'è una mazza, una mazza, poi qua la paglia, la paglia per fare le uova, qua un'altra cesta per fare le uova. Qua questa è la mangiatura, qua va il cibo, ora vi faccio vedere anche il cibo, come lo mangio. Poi la stanno mangiando un po' di bucce di mela, pasta, poi qua, questa è la beveratura, qua subito da me, con una lattina d'acqua. Poi qua, fuori, ecco guardate un po' qua fuori dove loro escono per andare a mangiare, lì ci sono i pulli, ora vi faccio vedere. Qua fuori loro vanno a mangiare, basta che apro questa porta e loro escono fuori. Ecco qua, qua stanno mangiando, vedete come mangiano, sono molto affamate, ora vi faccio vedere i pulli. sono di razza grigia, non so proprio che razza sono, però sono molto grandi, molto belli. Ora vi faccio vedere uno da vicino, lo prendo un attimo e ve lo faccio vedere. Eccoli qua, questo qua è uno il più grande, poi qua c'è un altro, guarda, quando sono belli. Ora devo prendere anche i puccini di tacchino, poi dovrò prendere altri pulli, bianchi e rossi, poi devo prendere una pioccia. Porto il video, ora vi faccio vedere i conigli e il mio cane, i miei conigli. Ho soltanto una coppia per ora perché li ho tolti quegli altri, perché ora devo prendere, era un po' vecchio, poi devo prendere i californiani. Sarebbero i conigli bianchi con gli occhi rossi. Questa è una femmina marrone, quella del Rov, che è un attimo riproduttivo, fa anche a 12 figli a volte. Poi, questo qua, il coniglio maschio, sempre marrone. Sto mangiando l'erba ora, ora vi faccio del cane. Con l'arice liga, qua l'abberatura. Con l'arice liga, qua l'abberatura. Questo è il mio cane, è un incrocio della pastore tedesca e rotto, va bene. Ora lo tengo giusto qua, in questo ore 570, perché la sua rete si è... sta all'arete rotta, quindi lui poteva scappare. Non farò scappare, l'ho chiuso qua, però è momentaneo qui. Poi lo libererò. Guardate quanto è bello. Si chiama Pong. Molto contento quando mi vedo il cartazzo. ữa di l'arici. Gli altri roti da tre sempre. Quattro, sotto, tre il sale. Quattro,收看 i tutti, ha messo i Already, che i miei pochi, Guattordano, metto saltoышко. Soglie, bravo comanda unusuala per essere uguali. Quattro. Sì buonso 여uno ihre senatora nel corso.